Viaggio nei quartieri di Como per scoprirne i problemi, per capire le esigenze dei cittadini e per raccogliere utili suggerimenti e segnalazioni per l'amministrazione. L'appuntamento è nella trasmissione di espansione TV Angoli. Il primo spazio sarà nella puntata in onda giovedì 19 gennaio alle 19 e venerdì mattina alle 7. Si parlerà di Ponte Chiasso con gli interventi di una serie di persone che risiedono o hanno attività nel quartiere che confina con la Svizzera. L'appuntamento dedicato a Ponte Chiasso dunque è con Angoli in onda giovedì alle 19 e venerdì alle 7 del mattino. La pulizia qua, come si può ben vedere, non viene mai fatta. C'è fogliame dello scorso autunno e probabilmente c'è quello dell'anno scorso ancora in situ. Qua si allaga, il tombino quasi chiude sistematicamente e qua si fa una specie di lago in cui le macchine hanno difficoltà a transitare. Quei parcheggi sono bianchi, cioè pubblici, e questi invece sono a pagamento, come sono la maggior parte dei posteggi di Ponte Chiasso. Per i residenti c'è veramente poco, non si può posteggiare quasi da nessuna parte. Non ci sono fasce orari garantite, cioè fino a mezzogiorno, stacchie alle 15. Uno che vuole mangiare a casa deve pagare il posteggio, se trova, durante la settimana. Qua è via Brogeda, di fronte alle scuole. Non ci sono più i cartelli stradali che indicano la presenza della scuola, che sono molto importanti. Le macchine sfrecciano sistematicamente a una certa velocità, fuori da ogni limite, e c'è un notevole transito di autotreni. Vediamo alle nostre spalle, quella che dovrebbe essere un'area verde, seppure piccola, è praticamente una discarica. Viene utilizzata come discarica, si può ben vedere, chiunque passa. Hanno abbassato addirittura il telo per poter gettare i rifiuti più agevolmente. Grazie a tutti.